Il caro carburante pesa anche per il trasporto pubblico locale. L'aumento dei costi sarà fronteggiato da Autolinea Toscane, azienda già impegnata a rinnovare la flotta di bus per rendere più efficace il servizio di trasporto. È un problema molto serio, che ovviamente non abbiamo solo noi, è un problema nazionale. Noi speriamo che ci possano essere, in parte ci sono stati nell'epidio delle Covid, già interventi da parte del Governo nazionale che ci hanno dato mano, ma sicuramente questo problema del carburante rischia di diventare un grosso problema dal punto di vista dei costi dell'esercizio. Su questo possiamo, più che intervenire noi, bisogna che ci sia un'attività nazionale che ci consenta di poter abbattere questo costo ulteriore che sarebbe difficile gestire da parte di tutte le aziende di trasporto. L'azienda ha seglato un accordo con Muvit per rendere più snello e diretto il trasporto in tutta la regione tramite l'app. Gli utenti possono tracciare il proprio itinerario in modo semplice, scrivere luogo di partenza e di arrivo per trovare la soluzione migliore per arrivare a destinazione. Aver superato la diversificazione territoriale in quattro macro aree e ora avere un'app che può essere utilizzata da tutti gli utenti in tutta la Toscana è ovviamente non solo un'innovazione tecnologica, ma un rapporto più amichevole tra chi utilizza il TPL. Andiamo a permettere al cittadino di spostarsi da Firenze a Prato, da Prato a Grosseto utilizzando la nostra app. L'app è disponibile in 45 lingue, il servizio sarà immediatamente attivo su Firenze nei prossimi mesi, anche in tutte le altre province della Toscana. Grazie. Grazie.